Quando arriva il carnaval, arriva il carnaval. Tutte le feste che stanno, Natale, Pasqua, San Dostoevo, Capodanno, noi, il carnaval è un modo di staccare tutto per evadere dalle bollette, dalle tasse, da tutto quello che si spende, a noi è un problema. Allora arriva quel periodo, diciamo, basta a pagare. Antonio Marzullo, Edward, mani di forbici. Pino Cervellera, Jack Sparrow, il pirata dei Caraibi. Gianni Cervellera, Willy Walker, Mauro Cervellera e faccio il personaggio del cappellaio matto. Io sono il manager, questi qua, quando mangiano e bevono, se capisci, qua tutto lo stipendio se ne va, allora li controllo, devo stare io a controllare, capito? Grazie a tutti.